L'attuale strategia europea per la biodiversità al 2030 chiede a tutti i paesi, quindi anche all'Italia, di proteggere per quell'anno il 30% dei nostri mari. A livello nazionale, nell'ambito dei diversi progetti che riferiscono al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato previsto un modulo specifico proprio finalizzato alla cartografia degli habitat di interesse conservazionistico per poter poi favorire la loro protezione e nel contempo anche favorire il loro recupero. Queste professionalità e questi elementi tecnici di grande importanza sono veramente strategici per il prossimo decennio e per l'attività della conservazione marina nelle nostre acque.